quando una donna deve comprare un fondotinta fa una scelta spesso legata al colore o al profumo oggi voglio insegnarvi come scegliere il fondotinta giusto per le vostre esigenze quindi innanzitutto analizzate se la vostra pelle lucida quindi grassa se secca quindi opaca o se è normale quindi né secca né grassa una pelle diciamo così giusta come cromia e come idratazione se avete una pelle normale io vi consiglio una crema morbida idratante anche leggermente colorata perché svolgerà un'attività sia decorativa allo stesso momento vi rende luminosi ma vi dà anche l'opportunità di tenere un po sempre la pelle un po ben idratata se avete una pelle secca non comprate mai un fondo compatto è un fondo che vi darà nel momento della stesura una serie di piccoli segni vi evidenzierà le rughe se avete invece una pelle molto grassa la bisogna fare la scelta giusta non è il camouflage ricordatevi il cosiddetto prodotto detto camouflage è un prodotto ricco di olio piuttosto compatto che serve nel cinema nel teatro o anche nel privato per coprire degli inestetismi acne cicatrici poli dilatati quando avete una pelle molto grassa dovete trovare un fondo compatto ma sottile cioè normalmente invece ci si orienta verso fondi compatti ma molto coprenti e la si ottiene poi un effetto maggiormente lucido dopo qualche ora questo è spesso la problematica che molte donne incontrano quando comprano un fondo quindi ricordatevi pelle grassa comprate un fondo compatto ma di che non sia un camouflage che non sia ricco d'olio pelle secca comprate un fondo liquido pelle normale un fondo colorato ed idratante